In queste settimane da quando abbiamo iniziato il gruppo si è sempre allenato con grande intensità, con grande abbringazione e determinazione e quindi al di là che siamo all'inizio del nostro percorso però la squadra sarà pronta per giocare questo tipo di partita. Anzi sono estremamente curioso essendo la prima uscita come la squadra risponderà e come riuscirà a proporre le idee e i principi che abbiamo lavorato in questi primi giorni. Ma quello a cui tengo di più è quello di essere una squadra estremamente propositiva che voglia provare a dominare la palla cercando di dominare il campo e soprattutto la mentalità nel senso di giocatori che vogliono essere intensi e aggressivi e che vogliono nel momento in cui abbiamo perso la palla andare a riconquistare il più velocemente possibile. Cioè voglio vedere i giocatori protagonisti al di là di quello che possono essere poi le risposte anche dal punto di vista fisico che chiaramente nessuno come noi potrà essere al massimo delle proprie potenzialità perché la stagione è appena agli inizi. Proverò a sensibilizzare la società in questo senso anche perché il mio compito e la mia responsabilità è quella di tutelare la squadra, di tutelare il Teramo e guardare quelle che sono le problematiche che il campionato e le partite troveremo da fronteggiare. Quindi ho detto in precedenza abbiamo sicuramente qualche posizione scoperta, questa è sotto gli occhi di tutti e quindi noi dobbiamo con tante idee fronteggiarle, fermo restando che il presidente per ora non si è mai tirato indietro, lo conoscete meglio di me. Ha garantito delle squadre estremamente importanti in questi anni, forse spendendo tantissimo. Ha fatto degli sforzi enormi per il Teramo perché adora questi colori e questa squadra e quindi per ora sono estremamente contento perché non era scontato portare i giocatori, a parte i giovani che sono entrati, che hanno sicuramente delle potenzialità, ma anche over come Tozzo, Malotti e Bernadotto che erano ambiti da tantissime squadre. Quindi speriamo e vediamo cosa succederà nei prossimi giorni. Mister, sbagliamo, andiamo troppo lontani se diciamo che quella di domani con il Monterosi al netto del fatto che è sempre un impegno ufficiale, però è una prova generale, cioè qualcosina in poco più di un amichevole per il Teramo in vista del campionato che è il vero obiettivo, anche perché insomma di amichevoli non avete avuto la possibilità di disputarne tantissime. No, no, non esistono, per il nostro modo di pensare non esistono amichevoli. Anche quella che è stata fatta è stata affrontata, l'avete visto, con grande furor agonistico, con grande determinazione. Questa è la mentalità che deve contraddistingere il Teramo su ogni campo, a prescindere da quello che è l'impegno ufficiale o non ufficiale. Io lo chiedo a ragazzi anche in ogni singola esercitazione, perché se si vuole essere protagonisti dobbiamo allenarci e poi giocare come ci alleniamo. Quindi per noi domani è una partita importantissima che ci deve dare delle risposte su come stiamo ricependo le cose che stiamo lavorando quotidianamente. Grazie. Grazie.